di preparazione le carciofi sott'olio questi sono i carciofi che sono a bagno con l'acqua limone e accetto qua c'è la pentola che bolle con l'olio l'aceto e il sale e poi andranno ad essere invasati all'interno di questi vasetti che sono tutti sterilizzati lo so è un lavoro duro però quando ti siedi a tavola e vai a gustare queste bontà ci si lecca i baffi guardate la meraviglia di questi carciofini restate connessi per vedere il risultato finale